Ciao amici e amiche del Segno del Leone, benvenuti su Exotericuori, io sono Angela e questo è il loro scopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno, prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più, cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo per la stesa, in descrizione trovate il link per acquistarli, sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana e trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello lunare motivazionale e adesso andiamo a scoprire le prime indicazioni tramite il taglio, troviamo l'albero, quindi nuova fase di crescita e di evoluzione e poi troviamo il giardino. Qui già c'è un'indicazione ben precisa che per alcuni di voi può darsi che ci sia nel corso della settimana ad avere a che fare con delle questioni rimaste in sospeso, che provengono dal passato, forse anche dal lontano passato, cose messe un po' da parte e trascurate che si può avere l'opportunità finalmente di darvi una nuova spinta. E questa spinta è vero quando c'è la carta del giardino è maggior apertura, maggior serenità, potrebbe anche migliorare l'aspetto della socializzazione o trovarsi a ricevere un invito, fare un incontro particolare, determinante, magari per un qualcosa che state affrontando. Di sicuro come indicazione si tratta di dare più attenzione alle persone più care, più strette e quelle che in un certo senso vi possono sia sostenere, aiutare e proteggere. Vediamo cos'altro vogliono dirvi, sempre in base alle vostre energie, qualche incertezza, momento di confusione, ma abbiamo queste nuvolette passeggere, potreste sentirvi abbastanza sovraccarichi e stanchi, perché ci sono impegni sia vostri sia di altre persone, quindi magari fate attenzione anche di che impegni vi sovraccaricate, perché alcune, ecco perché secondo me è uscito l'indicazione di concentrarvi solo sulle cose più importanti, perché potreste disperdere eccessivamente le vostre energie e quindi tanta generosità, tanta attenzione verso alcune cose sia nei confronti degli altri sia magari anche per cose vostre, quindi è un consiglio anche per cose estrettamente personali o del lavoro, concentratevi, valutate attentamente, magari preparatevi, mostrate un po' di attenzione e protezione soprattutto verso di voi e le vostre energie, appunto per non perderle e disperderle in cose che probabilmente o non vi porteranno a niente o comunque in questo momento della vostra vita avete bisogno di ricaricarvi, di preoccuparvi di cose importanti, è una fase di preparazione e di attenzione ai dettagli, alle cose principali. I segni da attenzionare particolarmente per voi nella vostra settimana sono i segni di terra, toro, vergine e capricorno, abbiamo anche un po' quelli di fuoco, aria taleone e sagittario e adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi per l'ambito amore, perché coppia, singola e poi vedremo il lavoro, troviamo fedeltà, fedeltà, falsità e serva. Lo dico sempre che ovviamente la carta dal nome così altisonante, la fedeltà, è vero che si può avere qualche dubbio, qualche perplessità sulla fedeltà della persona amata, però non sempre funziona in questo modo, soprattutto in una stesa troppo, troppo generica. Se avete dubbi e perplessità, allora cercate magari di capire, di indagare, di valutare, oppure magari dietro a un comportamento che può essere strano, ambiguo, non necessariamente ci sono cose strane di questo tipo. Poi ricordiamoci che la fedeltà non ha semplicemente a che fare con il tradimento fisico, quindi con un'altra persona. No, questi sono i casi eccezionali e ovviamente non credo sia il caso vostro, però prima valutate e verificate. Spesso ha a che fare invece con una fase di incertezza, di mancanza di attenzioni, oppure l'altra persona potrebbe non volervi caricare del suo stato d'animo, delle sue preoccupazioni, appunto per non gravare e per questo avere un atteggiamento strano e ambiguo che potrebbe essere forbiante. Invece di andare oltre, così riuscirete subito a intercettare, capire e migliorare il vostro rapporto, lasciando andare cose che effettivamente magari non sono neanche giuste e corrette. Quindi qui, come vedete, abbiamo trovato già delle ottime indicazioni. Per quel che riguarda invece i single, troviamo gran consolazione nemica e dottore. Una situazione che si vede un po' particolare. Possono esserci più situazioni in ballo, perché se state conoscendo, frequentando qualcuno, se c'è una fase di incertezza che vi portate dietro anche dal passato, ecco anche qui meglio riflettere e valutare. Tutt'al più, forse potrebbe esserci una persona che potrebbe darvi dei consigli utili o darvi anche delle informazioni che vi possono servire, soprattutto se conosce magari la gente in questione. Quindi sia gran consolazione sia nemica. È vero può riguardare il venire a conoscenza di un qualcosa o qualcuno del passato che vi ha ferito e che quindi vi prenderete le vostre belle soddisfazioni. Dall'altro lato, è vero, come vi dicevo, possono esserci delle doppie situazioni. Magari aver una nuova conoscenza, qualcosa che vi stimola, può essere positivo per voi. Dall'altro lato ancora vecchie situazioni e conoscenze che potreste portarvi dietro, non volutamente, magari è proprio questa persona che continua ad insistere e a importunarvi, spero che non sia questo il caso, o semplicemente è una persona che vi corteggia, a voi non interessa minimamente. E vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche, quelle del lavoro. Quando parlo in questo ambito qui, magari se il lavoro procede bene, ne possono riguardare anche altri aspetti, a livello finanziario, anche a livello se avete delle spese, degli investimenti, anche cose legali. Adesso vediamo che cosa vogliono dirvi effettivamente. Per strettamente legato al lavoro possono esserci dei contrattempi, magari quando c'è questa carta, ecco, mette un po' in guardia a questi cambiamenti improvvisi, a cose che possono arrivare, magari si state in guardia. Perché da un lato è vero che possono esserci dei litigi, delle discussioni e delle incomprensioni, forse con dei clienti, con dei problemi, ecco, come vi dicevo, anche magari a livello legale. Quindi fate attenzione come vi muovete, come gestite questo ambito qui. Altrimenti ci possono essere delle persone sospette, delle persone da tenere o alla larga o da osservare attentamente come si comportano nei vostri confronti. E' vero che c'è qualche preoccupazione, però c'è anche la carta della morte. Vuol dire che è un qualcosa che va a concludersi, potrebbe appunto nascere e morire subito, nel senso proprio di risolversi o trasformarsi. E' vero che essendo una carta generica, l'evoluzione e la trasformazione dipende da quello che state vivendo. Quindi cercare subito di mettere in moto le vostre strategie, proteggervi, cercare subito di intercettarli, magari questa morte andrà in senso positivo a vostro vantaggio. Altrimenti potrebbe esserci qualche difficoltà. Come dico sempre, essendo una stesura generica, vi do in modo che solano delle informazioni, perché ognuno di noi poi andrà a sperimentare queste energie e queste situazioni. Il fatto che loro vogliano mettervi in guardia, secondo me, è già un aiuto sostanzioso. Poi anche per chi è in cerca di lavoro, effettivamente fate attenzione a chi vi rivolgete, fate attenzione magari a chi chiedete consiglio e aiuto. Forse queste possono riguardare proprio una questione legale a un corso o qualcosa che non vi soddisfa pienamente della vostra ricerca in questo ambito qui. E possono esserci purtroppo delle spese improvvise. Quindi anche qui valutate attentamente di risparmiare da un lato per cercare di affrontare delle cose, almeno in questo passaggio, in questo momento. E si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!